Con tanti, molti, bustarelle ogni volta da migliaia di euro fino ad arrivare a 50.000 euro secondo quanto contestato dagli investigatori, ma anche viaggi, pranzi e benefit di vario genere, tangenti in cambio di soffiate su eventuali ispezioni e controlli da parte della pubblica amministrazione, ma soprattutto agevolazioni che avrebbero consentito ad un'azienda edile della Bergamasca di non pagare le imposte attraverso compensazioni tra quanto dovuto e ipotetici credit nei confronti dell'ente previdenziale per un'evasione accertata di circa un milione e mezzo di euro. Accuse pesanti, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, quelle nei confronti di Angelo D'Ambrosio, 52 anni, attuale direttore dell'Inps di Sondrio, originario di Taranto, residente nella Bergamasca, arrestato questa mattina dagli uomini della Polizia Tributaria, della Guardia di Finanza e della squadra mobile della Questura di Lecco, che al termine di una lunga articolata indagine hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare. D'Ambrosio, fino al 2017 alla guida dell'Inps di Bergamo, si trova ora ai domiciliari, così come l'imprenditore che lo avrebbe corrotto, un 61enne a cui fanno capo direttamente o attraverso imprese collegate e società che fornivano lavoro interinale. I fatti contestati da Finanza e Polizia, coordinati dalla Procura di Bergamo, si concentrano ogni un anno a cavallo tra il 2016 e il 2017 e riguardano principalmente fatti accaduti nel territorio orobico. L'inchiesta ha preso il via da una precedente indagine, cominciata nel 2016, che aveva portato all'individuazione di un insidioso e subdro sistema di frode ai danni dello Stato, perpetrato da un gruppo organizzato che aveva replicato sistematicamente il ricorso alle indebite compensazioni di imposta su numerose realtà economiche distribuite tra le province di Bergamo e Lecco, ma presenti anche in altre province del territorio lombardo, nonché in altre regioni italiane. In malettere ha finito Marco Sarti, consulente fiscale, classe 1960, residente a Lecco, ma originario di Salerno, accusato di aver occultato al fisco diversi milioni di euro attraverso operazioni fittizie. Il filone bergamasco dell'inchiesta ha permesso l'individuazione del patto criminale consolidatosi tra il direttore dell'Inps e l'imprenditore attivo nel mondo cooperativo della somministrazione di mano d'opera, spiega il tenente colonnello Antonio Gorgoglione, a capo del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Lecco. Il direttore forniva due tipi di aiuti, dando notizie su eventuali ispezioni e agevolando pratiche di rimborso all'impresa, compensando l'importo dovuto con ipotetici crediti su pratiche Inps di sedicenti lavoratori, per un risparmio da parte dell'azienda in un anno che si aggirerebbe intorno al milione e mezzo di euro.